Quindi lui su quel sito ha trovato la ragazza, però il serial killer, mamma mia ma Vito di Bari, dove siamo finiti? Siamo finiti in un romanzo, un thriller che tutti potranno ricevere sul loro telefonino. È la prima volta che succede in Europa e già successa in Giappone, però dove vanno molto bene questi romanzi appuntati. Un paragrafo del giorno per 108 giorni sul telefonino. Ah, quindi non si trova tutto questo romanzo che ha un nome? Sì, si chiama Social Killer. Social Killer è un serial killer che cerca le sue vittime in un social network, in situazioni che potrebbero verosimilmente capitare ad ognuno di noi. Verosimilmente ma virtualmente? Ma virtualmente e infatti è la storia dei tre ragazzi, ecco li vedete lì, si chiamano Chiara, Deborah che è la sua migliore amica e Marco che è il ragazzo di cui lei è innamorata. Sono tre studenti universitari milanesi che si ritrovano per due settimane a incrociare la vita frenetica della Milano dei locali notturni, della moda, dell'alta finanza, un mondo che a loro è estraneo. E però sullo sfondo massimo c'è questo serial killer che cerca delle ragazze da uccidere. E non vi dico ovviamente come va a finire. Ovviamente, trama intrigante, ecco, dicevamo sui telefonini, quindi uno scarica questa applicazione che è una killer application, scusate la battuta di questi tempi, cioè è gratuita, è anche il romanzo è gratuito. Allora, è gratuito, salvo ovviamente i costi di connessione e si può fare in due modi. Uno è scaricare l'applicazione dall'iPhone e si può fare con qualsiasi utenza telefonica, ecco vedete questa è l'applicazione da scaricare, si chiama Social Killer, si trova facilmente. Il secondo modo invece è mandare un messaggino con su scritto Killer, vedete, a questo numero telefonico e questo soltanto per gli utenti Vodafone che è il distributore di questo thriller sul telefonino.